Che legame c'è tra la musica e la nascita dell'astrattismo? L'astrattismo è un'altra delle avanguardie storiche di cui vi sto parlando e vi ho dato come datazione di massima nella lista che vi ho fatto a suo tempo il 1910. In questa video lezione cerco di spiegarvi allora come si è arrivati a quella data e chi sono i protagonisti, chi è il grande protagonista di questa importantissima impresa. Lo vedete già scritto con il suo nome in rosso, si chiamava Vassili Kandinsky, l'artista che arriverà a questa importantissima conquista, cioè la nascita dell'astrazione, dell'astrattismo. Kandinsky, vi premento che si può anche scrivere con la Y in finale, lo stesso Kandinsky che era russo, era nato a Mosca nel 1866, se ne andrà poi a Monaco di Baviera e comincerà a fermarsi con la Y in finale appunto togliendo la sua identità russa, russa in parte, e poi in realtà finirà i suoi giorni a Neuilly-sur-Seine in Francia nel 1944. Questo per quanto riguarda la sua biografia. Ma eccolo qua questo personaggio, vi dicevo Moscovita, e in realtà inizierà a dedicarsi completamente alla pittura abbastanza tardi, perché era un uomo molto colto, che si era laureato in giurisprudenza e forse si era specializzato in economia politica, ma aveva sempre manifestato un interesse, coltivato un interesse per la musica, per cui suonava discretamente bene il violoncello e il pianoforte. Ma il nostro Vassini Kandinsky, che qui vedete in una fotografia, che è stata scattata da Gabriele Münter, che era la sua compagna, è stata a lungo la sua compagna, nel periodo forse più importante della sua vita, verrà poi scaricata da un'altra ragazza molto più giovane, ma questo è un altro discorso. Qui lo vedete appunto, lo vedete in tutta la sua serietà, mi piace mostrarvi le fotografie anche per farvi capire che questi personaggi che hanno davvero rivoluzionato il mondo dell'arte erano perfettamente inseriti nella società, vi dicevo lui addirittura un uomo che avrà un ruolo importante anche quando poi tornerà in Russia all'esplosione della Prima Guerra Mondiale, prenderà poi anche un ruolo importante a livello politico per quanto riguardava proprio la riforma dell'istruzione artistica in Russia. Ma allora, questo Vassili Kandinsky, perché per noi è così importante? Perché io vi devo raccontare di come è nato l'astrattismo e allora è importante che vi racconti del suo personaggio, del suo percorso, anche se potrei allargare molto di più la questione, dovrei a questo punto coinvolgere anche alcune donne appunto nella faccenda, a partire da questa Gabriele Muster, ma anche ad altre donne che stavano già un po' praticando qualche sperimentazione legata all'astrazione, ma insomma sarebbe un altro discorso. Ma devo concentrarmi su Kandinsky, perché negli stessi anni, in luoghi diversi d'Europa altri artisti stavano comunque raggiungendo gli stessi risultati, o meglio, risultati erano diversi e le vie erano diverse, ma la nascita dell'astrattismo era comunque, come dire, nell'aria, era arrivato il momento. Vi sto mostrando in particolare un dipinto intitolato Composizione 10, poi ragioneremo anche sui titoli, di Piet Mondrian. Piet Mondrian era un artista olandese che arriverà appunto a questi risultati, vedete, il titolo è Composizione 10, Molo e Oceano, quindi c'è una partenza naturale, si guarda la realtà e poi però si riduce, immaginatevi vedere i riflessi della luce che si riverberano sull'acqua però placida, ecco, questa è un'opera come questa che è assolutamente astratta, però parte dalla realtà e la abstrae, la tira via, adesso ragioniamo anche sul termine. Ma vi dicevo, vi parlo di Kandinsky perché negli stessi anni Piet Mondrian stava arrivando a risultati che potrebbero essere comunque paragonati, voi conoscete Piet Mondrian in particolare per questo tipo di ricerca, questa riduzione geometrica all'essenza delle forme, delle linee e dei colori. ma negli stessi anni stava capitando qualcosa del genere ancora più estremo, se vogliamo, anche in Russia, in particolare Kasimir Malievich, guardate, 1915, stava veramente arrivando alla definizione di forme essenziali che eliminavano ogni elemento di realtà che potesse allontanare lo spirito da una ricerca di purezza più estrema. Ecco perché allora è importantissimo che io vi parli di Kandinsky e ve lo contestualizzi. Mi piace farvi riflettere sul fatto che, per quanto l'arte astratta potrà lasciarvi all'inizio un po' frastornati, e faceva parte anche questo, degli effetti necessari per far progredire il mondo dell'arte, ma questa ricerca mi piace farvi riflettere sul fatto che fosse matura, per cui se non fosse stato Kandinsky sarebbe stato comunque Mondrian, sarebbe stato comunque Malievich, sarebbero state comunque Gabriele Münter e la Klimt. Insomma, davvero, ci sono momenti storici in cui le cose devono accadere. Ma di cosa parliamo? Pensiamo alla parola abstra, astrarre, e ho preso proprio la definizione della tre cani, così anche in questo caso non invento, ma vedete che deriva dal latino abstraere, abs, via da, traere, trarre. Cioè, l'astrazione, abstrarre, vuol dire tirare via da. È una sorta di processo di eliminazione, di semplificazione, che ci distoglie dalla realtà immediata, si allontana dalla realtà immediata. E allora cominciamo a capire un po' che cosa sta facendo il nostro Vassili Kandinsky. Qui lo vedete in epoca, in età matura, mentre sta realizzando uno dei suoi dipinti, e come vedete anche in questo caso dipinge con giacca e cravatta. Sarà pur per una fotografia, però vi dà ancora una volta l'idea di un'immagine di un artista che era assolutamente un artista intellettuale, colto, non sicuramente un... Noi pensiamo agli avanguardisti, abbiamo in mente probabilmente, no? Giovani, scapestrati, ecco, vedete che stiamo parlando di un uomo di una serietà incredibile. Era molto colto e adesso vi racconto un po' il suo percorso. Ci sono però delle fasi, degli eventi che hanno influenzato tantissimo il nostro Vassili Kandinsky nel suo avvicinamento progressivo all'astrazione e la musica avrà un ruolo importantissimo. Nel 1895 accadono in particolare due eventi. A Mosca Kandinsky ha la possibilità di andare a vedere, ad ascoltare il Löngrin di Wagner e ne rimane profondamente sconvolto. Vedete cosa ne scrive? Sono testi che lui ha pubblicato, lui scriverà tantissimo, è anche un teorico, poi vi racconto meglio. Scrive, senza che ne rendessi conto, era screditato ai miei occhi l'oggetto come elemento indispensabile del quadro. Non semplicemente il soggetto da rappresentare, voglio dire, un paesaggio, una casa, un ritratto, ma l'oggetto, ciò che l'occhio sa identificare e riconoscere. Perché stiamo cominciando a capire che sta succedendo qualcosa di importante e ha contribuito a queste sue riflessioni l'ascolto del Löngrin. Mi parve una perfetta realizzazione della sua Mosca, lui appunto era molto legato alla sua città. I violini, i bassi gravi e particolarmente gli strumenti a fiato incarnarono allora per me tutta la forza di quell'ora di prima sera. vidi nella mente tutti i miei colori, erano davanti ai miei occhi, linee tumultuose, quasi folli, si disegnavano davanti a me. Allora, accade qualcosa che gli storici dell'arte hanno provato a identificare come sinestesia. Noi ne abbiamo parlato più volte quando, anche a proposito di, che ne so, gruppo scultorio con Apollo e Daphne di Bernini, con Daphne che ha la bocca aperta e ci fa quasi percepire il suono del suo lamento, delle sue grida, del suo pianto. Ecco, allora io vi dicevo, vediamo e vedendo con gli occhi un'immagine possiamo anche quasi percepirne il suono. Ma quella era ancora un percorso molto affascinante, parlavamo di linguaggio barocco. Qui invece siamo davanti a qualcosa di molto diverso. È come se, ascoltando dei suoni, Kandinsky potesse vederne i colori, vederne le linee. E questo accade, appunto, ascoltando il Leungrin di Wagner. In proposito, vi porrei una questione in particolare ai miei musicisti. Questione, che cosa può avere percepito Kandinsky dall'ascolto di Wagner? Quali possono essere state, secondo voi, le cose che l'hanno profondamente mosso, colpito, al di là di questa sinestesia, che lui evidentemente, da cui era baciato, no? Poter ascoltare le note e vederne i colori, vedere le linee che venivano tracciate nella sua mente. Pazzesco. E al di là, quindi, la mente è più importante che non gli occhi. Ma io vi suggerisco, vi butto lì, poi appunto ne parleremo insieme, magari il discorso di Wagner legato all'opera d'arte totale. Vedrete che tra un attimo vi racconterò delle sperimentazioni che il nostro Kandinsky farà proprio per provare a tradurre i diversi linguaggi, da quello della musica, a quello dell'arte, a quello della danza. Vedrete. Oppure potrebbe essere qualcosa forse legato al leitmotiv. Voi sapete appunto che nella scrittura di Wagner potevano esserci appunto queste sorte di melodie associate all'eroe, al personaggio e che ne anticipavano l'ingresso in scena e che in qualche modo a livello, come dire, inconscio facevano percepire direttamente allo spettatore, all'ascoltatore, l'arrivo, la presenza, il gesto del personaggio a livello musicale prima ancora che non appunto nella storia che veniva narrata. E l'ultimo elemento che vi propongo così come spunto di riflessione e poi appunto ne parleremo insieme è la invenzione del golfo mistico. Voi sapete che il golfo mistico è questo, la buca dell'orchestra era già stata introdotta in precedenza ma in sostanza è da Wagner in poi che diventa la regola per la costruzione dei teatri perché c'è questo spazio, pensate che meravigliosa definizione, golfo mistico. È questa sorta di spazio in cui l'orchestra si sistema e da cui può originarsi questo suono mistico, una sorta di forza spirituale. Ecco, diciamo che questi potrebbero essere, poi magari voi ne aggiungereste molte altre ma era successo qualcos'altro nel 1895, vi parlavo di due diversi eventi importanti a Mosca era stata fatta una mostra dedicata agli impressionisti e in particolare Kandinsky sarà profondamente colpito dalla visione dei covoni di Monet. Io qui venivano inseriti due, non so dirvi, voi sapete che la serie dei covoni è numerosissima, non so dirvi quale dei covoni fosse presente, se uno, se due, se dieci, non lo so, quale fosse presente alla mostra Moscovita Ma il nostro ne rimarrà profondamente colpito perché ha quasi la sensazione di poter percepire una composizione musicale creata da una sinfonia di colori sono sempre parole che lui comincerà a impiegare nei suoi scritti sinfonie di colori, tutto sommato non ce ne stupiamo però voi capite che allora si comincia a ragionare in termini astratti cioè le sinfonie di colori che si armonizzano insieme ma siamo ancora lontani dal percorso complessivo che lo porterà davvero all'astrattismo guardate ad esempio questo meraviglioso dipinto nel 1898 quindi siamo ancora nell'area della perfetta riconoscibilità al vero, è un paesaggio, è il porto appunto ma vedete che comincia a crearsi questa sinfonia di colori che giocano insieme anche se vedete che la tecnica pittorica del nostro Kandinsky è ancora abbastanza ancorata, è legata ancora ancorata visto che siamo in porto, ancora legata alle pratiche diciamo da un lato post impressioniste, divisioniste, da un lato simboliste e forse stanno cominciando, emergeranno in seguito quando il nostro si trasferirà in Europa anche le ricerche che poi diventeranno quelle FAUV ma allora è interessante per noi scoprire che nel 1904 il nostro pubblicherà una raccolta di incisioni a Mosca che avevano il titolo di Romanze senza parole io ne ho inserita una e vi ho evidenziato il titolo perché di nuovo è un titolo musicale vi potranno venire in mente le Romanze senza parole di Mendelssohn queste partiture per pianoforte che avevano omesso la parte della voce che normalmente l'ha presente nei lead e Kandinsky parla di questo suono interiore degli elementi è come se lui volesse proporci l'idea che c'è ma ripeto è interiore, qualcosa che cominciate a capire che ha una valenza spirituale molto profonda la musica come strumento per arrivare alla spiritualità teniamoci in mente questo indizio poi ci ragioniamo nel frattempo però è importante farvi capire guardate che meraviglia farvi capire che il nostro aveva un percorso ancora molto legato molto radicato alla tradizione popolare moscovita, tradizione russa in generale e vi dicevo prima una sorta di decorativismo quasi art nouveau e simbolista guardate in particolare lui in questa fase spesso dipingeva con un fondo scuro su cui andavano ad adagiare le sue macchie di colore che quindi quasi sembravano galleggiare dal fondo con un effetto che poi andrà in direzione dell'astrazione perché davvero vedete che le forme e i colori si isolano galleggiano in questi fondi però si assume anche una valenza decorativa di superficie meravigliosa che in parte potrebbe ricordarvi anche che ne so le operazioni che nel frattempo stava compiendo aveva compiuto Gustav Klimt a Vienna per intenderci quindi vi sto mostrando questi dipinti meravigliosi anche però per dirvi un'altra cosa siamo negli anni in cui il nostro Kandinsky insieme a Gabriele Münter, la sua compagna si trasferirà a Monaco di Baviera ma nel 1906 vi interesserà sapere allora che la coppia andrà a Parigi e a Parigi entrerà in contatto con Ifov con Matisse conoscerà Picasso che nel 1906 era ancora nella fase rosa conoscerà Gertrude Stein vi ricordate il ritratto di Gertrude Stein realizzato appunto da Picasso in quegli stessi anni ma per noi questo sarà importante perché se ancora questo era il suo linguaggio la vita vario pinta ancora tipicamente moscovita, russo pensateci per un attimo l'unica arte russa che forse può venervi a me se vi chiedessi qual è l'arte russa voi forse mi rispondereste le icone queste icone bizantine queste immagini sacre che appunto sono tracciate con delle linee molto nette le forme sono piatti i colori sono stesi a campitura ecco quell'idea in fondo è quella che poi porterà davvero la radice, la matrice dell'astrazione dell'astratismo ma nel 1906 entrando in contatto con i FAUV in particolare sia Kandinsky che la compagna Münter cominceranno davvero a sperimentare un linguaggio che va in quella direzione la direzione di un espressionismo ed è un uso spregiudicato del colore sempre più espressivo vi ho messo qui una serie di dipinti paesaggio con campanile a Murnau nel 1908 nel 1908 Kandinsky e la Münter compreranno una casa a Murnau e quindi realizzeranno una serie di dipinti molto spesso legati a quello scenario questo è ancora lo scenario russo ma vedete che intanto la pittura si sta facendo lo stile di Kandinsky si sta facendo sempre più riconoscibile con queste linee nere di contorno che comunque sono pulsanti hanno una vita autonoma e questi colori che sembrano veramente scappare in primo piano sfuggire a quelle ombre quindi un effetto molto bello guardate però quando vi parlavo dell'influenza FAUV avevo in mente in particolare ricerche come queste sembrano quasi veramente di vedere le trascrizioni sonore anche quasi digitali l'effetto dei mixer e con questi colori che balzano agli occhi ormai in senso assolutamente antinaturalistico e fortemente espressivo il linguaggio FAUV ha avuto un ruolo importantissimo nella ricerca di Kandinsky lo vedete molto bene anche qui con questi colori che squillano assolutamente antinaturalistici e che prendono peso e importanza sempre più preponderanti di nuovo lo vedete qui guardate che meraviglia questi accostamenti la tecnica è in parte a pla è in parte divisionista sappiamo che gli avanguardisti potevano davvero giocare sperimentare andare in ogni direzione possibile in tal senso ma qui vi mostro un dipinto ho inserito solo un dipinto di Gabriele Muntre giusto che insomma è giusto che ve la nomini vi segnalo che è uscito un libro di Daria Bignardi che si intitola Oggi faccio azzurro in cui c'è una curiosa storia raccontata da parte della protagonista che avrebbe degli incontri con Gabriele Muntre cioè la protagonista è una donna di oggi che sente le voci di Gabriele Muntre la compagna di Kandinsky che insomma la guida in un percorso interiore interessante a precede mi è stato suggerito da una mia meravigliosa studentessa quindi mi sembrava carino raccontarvelo ma al di là di questo vi voglio far fare un passo in avanti sempre nei testi che Kandinsky ci ha lasciato in grande numero ci racconta di un evento che verosimilmente è stato molto importante per lui per l'elaborazione e la nascita dell'astrattismo sentite cosa raccontava il sole tramontava tornavo dopo aver disegnato ed ero ancora tutto immerso nel mio lavoro quando aprendo la porta dello studio vidi davanti a me un quadro indescrivibilmente bello all'inizio rimasi sbalordito ma poi mi avvicinai a quel quadro enigmatico assolutamente incomprensibile nel suo contenuto e fatto esclusivamente di macchie di colore finalmente capì era un quadro che avevo dipinto io e che era stato appoggiato al cavalletto capovolto quel giorno però mi fu chiaro che l'oggetto non aveva posto anzi era dannoso nei miei quadri mamma mia una descrizione che ci fa veramente in filosofia si chiamerebbe un momento di apercezione succede qualcosa che ti fa improvvisamente ribaltare la tua visione delle cose di cui diventi improvvisamente consapevole verosimilmente chi aveva dovuto fare la pulizia nel suo studio aveva rigirato il cavalletto il quadro sul cavalletto e quindi al nostro candeschi si era presentato davanti un quadro che risultava bellissimo in sé anche se aveva perso la riconoscibilità al dato reale non era più importante vi ricordate cosa vi dicevo prima l'oggetto non aveva più posto anzi qui ci dice era dannoso ai miei quadri ci sta dicendo che la pittura si è sempre organizzata partendo dal dato naturalistico dal dato della realtà devo dipingere una casa un oggetto un paesaggio un ritratto ciò che l'occhio vede candeschi sta riflettendo sul fatto che forse questo diventa addirittura dannoso ho provato a fare un piccolo esperimento con voi vi ho inserito rovesciate le tre opere di candeschi che vi avevo appena mostrato appunto realizzate a murnau guardate l'effetto che deve essere non so quale quadri fosse quello non ci viene testimoniato quale quadro fosse ma l'effetto che doveva essere generato poteva essere simile a questo cioè guardate questa esplosione di macchie di colori senza che noi dobbiamo per forza trovare elementi di riconoscibilità nella realtà e allora possiamo perderci nell'apprezzamento del valore autonomo che i colori e le forme hanno in sé ed ecco che allora arriviamo davvero alla nascita dell'astrattismo allora quando vi ho fatto la lista io delle avanguardie io vi ho dato come data dell'astrattismo il 1910 perché mi riferivo a questo particolare dipinto è un il primo acquerello astratto è un acquerello appunto che è stato datato lo vedete anche scritto in basso in fondo a destra è stato datato 1910 ma secondo la buona parte degli storici dell'arte secondo anche le testimonianze raccolti gli scritti numerosi che ci testimoniano l'attività di Kandinsky verosimilmente Kandinsky ha retrodatato il suo acquerello l'avrebbe dipinto nel 1913 ma avrebbe retrodatato al 10 l'acquerello proprio perché vi ho fatto vedere cosa stava succedendo nel frattempo in Europa Mondrian stava arrivando all'astrattismo Malevich stava arrivando all'astrattismo allora forse per assumersi la paternità di un linguaggio di una ricerca così nuova e necessaria allora forse Kandinsky pare aver fatto questo compiuto questa sorta di mistificazione della trascrizione storica ma noi per noi conta poco perché vi dicevo l'epoca era matura era pronta e in fondo anche alcune ricerche futuriste pensate ad alcune opere di balla che vi ho mostrato stavano davvero andando in quella direzione e insomma ci si sarebbe arrivati comunque in un modo o nell'altro il primo acquarello astratto guardate sono delle semplici forme e delle linee e delle macchie di colore che galleggiano su un foglio per il resto lasciato bianco e attenzione a non fare l'errore di chiedermi o chiedervi che cosa rappresenta l'errore sta proprio lì non rappresenta niente perché rappresentare se intendiamo dire rappresentare partire dalla realtà rappresentare una casa un paesaggio un volto è il percorso sbagliato io so che davanti a opere astratte il nostro tentativo è quello di cercare confini cerchiamo appigli di riconoscibilità lo facevamo già all'epoca di Friedrich quando ci mostrava il monaco e arriva al mare noi non vedevamo quasi nulla cercavamo di capire di vedere strane forme comparire nel cielo l'uomo ha bisogno di avere punti di riferimento ma stiamo all'inizio del novecento agli albori della prima guerra mondiale e i punti di riferimento stavano saltando uno a uno e allora l'errore che si può fare anche se ci viene inconsciamente automatico è quello di andare a trovare faccine animali cavalli manine lo so che noi cerchiamo di perché il nostro inconscio cerca a pigli cerca 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 di trovare spunti di riconoscibilità in realtà invece Kandinsky stava cominciando una una ricerca profondamente espressiva di profonda libertà che però era serissima ed era in tessuta di una ricerca incredibile vi faccio capire di cosa sto parlando allora vi dicevo che il suo legame con la musica era fortissimo e tra un attimo riprendo in senso ancora più esteso il discorso ma sappiate che quando si è trasferito a Murnau appunto con la sua compagna nella loro casa si riunivano tutta una serie di altri artisti russi o musicisti o personaggi comunque di un certo tipo e il nostro non solo russi ma il nostro comincerà a creare un rapporto molto importante molto proficuo di scambio di progettualità con un compositore un musicista che si chiamava Thomas von Hartmann era tedesco in realtà e un ballerino russo che si chiamava Aleksandr Sakharov tra l'altro molti di questi personaggi erano anche molto legati alla teosofia io vi ho già accennato alla teosofia e le teorie di Rudolf Steiner quando vi ho parlato di Joseph Beuys la teosofia di Steiner in qualche modo parlava è impossibile ridurla in una frase ma insomma ci parlava di questa realtà essenziale che era nascosta dietro le apparenze allora voi capite che forse se guardiamo un dipinto astratto e cerchiamo l'apparenza sbagliamo perché in realtà bisogna salire di livello bisogna staccarsi dalla realtà la nostra realtà è bassa è bieca è materiale Kandinsky comincia a fare qualcosa a abstrarre tirare via toglierci da quella materialità per portarci più in alto tra un attimo vi racconterò che nel 1910 scriverà il manoscritto di quello che per noi diventa il testo teorico più importante dell'astrattismo non è un manifesto ma è il testo che Kandinsky scriverà e che si intitolerà lo spirituale nell'arte o sullo spirituale nell'arte possiamo tradurlo un po' come volete in italiano si trova come lo spirituale nell'arte in libreria per intenderci allora con questi due musicisti e ballerino che vi nominavo prima cioè Thomas von Hartman e Alexander Sakharov pensate che Kandinsky compierà una serie di esperimenti molto curiosi intanto Sakharov tra l'altro teorizzerà la danza assoluta per rendere visibile l'invisibile capite che stiamo parlando di ricerche non semplicemente li metto lì e mi faccio tre macchie o faccio tre passi di danza buttati a caso stiamo parlando di grandi teorici e allora quali esperimenti facevano i nostri allora funzionava così Thomas von Hartman il musicista sceglieva uno degli acquerelli preparati da Kandinsky mentre il ballerino non era presente lo suonava poi arrivava il ballerino Sakharov e ascoltando la musica lo trasponeva in danza alla fine il ballerino Sakharov dopo aver ascoltato la musica e danzato trasponendo appunto in danza la musica doveva ritornare a indovinare l'acquerello di partenza è una sorta di esperimento di traduzione di trasferimento che un'arte può avere nell'altra ma come dire che se c'è un'idea guida se c'è una forza spirituale profonda emerge al di là dell'apparenza al di là di quello che noi possiamo vedere capite che cominciamo a parlare di una ricerca molto complessa allora è interessante dicevo questo legame con la musica e Kandinsky scriverà ancora già molto presto mi resi conto dell'inaudita forza d'espressione del colore invidiavo i musicisti i quali possono fare arte senza bisogno di raccontare qualcosa di realistico il colore mi pareva però altrettanto realistico del suono quest'ultima parte non ve l'ho sottolineata ma è altrettanto importante allora pensateci la musica di che cosa è fatta forme no diciamo note timbro ritmo metteteci in mezzo tutto quello che volete voi durata insomma quello che volete voi ma è fatta di elementi che sono astratti una nota o una sequenza di note non rappresenta il suono della realtà non rappresenta la realtà è una ricerca autonoma che cerca una sua interna armonia o dissonanza e può generare degli effetti molto forti in che ascolta ecco allora questo era l'elemento che invidiava Kandinsky alla musica non c'era bisogno di raccontare qualcosa di realistico d'altra parte il colore aveva in realtà una presenza reale altrettanto forte come quella del suono e quindi sicuramente questo è un altro elemento da tenere in mente allora vi potrà interessare sapere è una lezione difficile lo so ma abbiate pazienza vi interesserà forse sapere che già dal 1908 Kandinsky comincia a elaborare una serie di pezzi teatrali che verranno messi in scena il più importante che è questo Dergelbe Klang il suono giallo verrà messo in scena soltanto nel 1975 alla prima per farvi capire ben lontano dalla sua morte addirittura ma questi pezzi teatrali che lui chiamerà composizioni sceniche vedete che hanno a che fare con la composizione quindi con l'elemento di nuovo musicale ecco lui butta giù queste notte per la realizzazione scenica e segnala tre tipi diversi di suoni che devono emergere da un lato il suono musicale che era emesso o dalla voce non necessariamente in parole ma anche come suoni in formi o da strumenti musicali quindi il suono suono musicale numero due il suono corporeo e psichico che poteva essere espresso con movimenti e danze talvolta frenetiche terzo suono il suono del colore delle luci delle scene il suono del colore vedete che torna questo elemento della sinestesia allora vi ho inserito qui questo non lo leggiamo ma vi ho inserito ce l'avete qui davanti se volete stoppate il video e leggetevelo voi queste alcune di queste note delle composizioni sceniche in particolare di questo Der Gelbe Klang il suono giallo il cui obiettivo era ancora una volta rendere l'anima recettiva la musica poteva fare leva sull'anima e questo è un elemento molto importante il nostro si dedicherà poi a una serie di sperimentazioni anche di tipo letterarie chiamiamole così o comunque che trasponevano i linguaggi l'abbiamo visto nel racconto che vi ho appena fatto in particolare il nostro a un certo punto pubblicherà questa serie di incisioni tra il 1908 e il 1912 in realtà erano poemi in prosa accompagnate da disegni parlanti e incisioni di cui alcune a colori si chiamavano kleng che vuol dire dal tedesco sonorità di nuovo l'elemento della musica dell'elemento del suono che vedete che è veramente molto molto importanti tra l'altro tornando un attimo alle composizioni sceniche vi ho detto prima del suono giallo ma in realtà ce n'erano altre come il suono verde o nero e bianco o il sipario viola e anche in quel caso lui scriveva i manoscritti come se fosse una partitura multimediale e immaginate come fosse un'opera con il coro a quattro voci di cui una voce era il colore uno era il movimento uno era la musica e l'altro era la voce umana quindi davvero scusate la quantità di informazioni ma ritengo che sia molto interessante in questa ricerca invece di questi poemi in prosa con questi con questi disegni parlanti e incisioni queste sonorità vedete scriverà Ugo Ball che in realtà è un personaggio che io vi farò conoscere quando vi parlerò di dadaismo in particolare ma vedete che tutti gli artisti avanguardisti erano collegati ecco scriverà di questo testo e di queste raccolte di disegni e incisioni anche in poesia Candisca è il primo a presentare dei processi esclusivamente spirituali processi spirituali lo so che per voi è difficile vedere delle macchie e pensare a un processo spirituale ma adesso ci arrivo con i mezzi più semplici egli crea davanti a noi il suono in movimento la crescita il colore la tonalità come ad esempio nel poema Bassun da nessun'altra parte persino tra i futuristi si è tentata una purificazione così ardita del linguaggio purificazione del linguaggio è il contrario di quello che ci può sembrare cioè quando io faccio vedere per la prima volta le opere astratte di Kandinsky qualcuno può manifestare un po' di malcontento tra i miei studenti perché sembra quasi una presa in giro una sorta di sono capace anche io finalmente cominciamo davvero a utilizzare questa espressione che tornerà così tante volte da adesso in poi macchie di colori casuali buttate su un foglio non funzionava assolutamente così adesso vi racconterò meglio anzi la logica era proprio il contrario quella di purificare il linguaggio anzi l'arte aveva un ruolo importantissimo vi faccio vedere alcune di queste incisioni questi disegni questa è un'incisione colorata appunto dal libro sonorità Klänge qui vedete appunto ecco questo era Bassun il testo di cui ci parlava Ugo Ball prima Fagot in tedesco lasciamo perdere il tedesco io qui vi ho messo una trascrizione un pezzettino piccolo il primo inglese e ve l'ho provato a tradurre in italiano ho visto un paio di traduzioni che c'erano ne ho fatta una terza a modo mio lasciate perdere ve la lascio qui anzi vado avanti ora quindi avete visto che c'era l'importanza della musica diventa sempre maggiore e arriviamo al 1910 e alla pubblicazione nel 1911 de lo spirituale nell'arte il testo che per noi è il testo sacro come dire della nascita dell'astrattismo e del percorso di Kandinsky diceva scriveva Kandinsky risulta che la migliore insegnante sia la musica l'arte che non si è dedicata alla riproduzione dei fenomeni naturali ma all'espressione dell'animo dell'artista e alla creazione di una vita autonoma attraverso i suoli musicali vi ricordate cosa diceva Picasso una cosa è la natura una cosa è la pittura è un po' la stessa cosa cioè gli artisti stanno cercando di lavorare per l'autonomia del linguaggio dell'arte senza che l'arte debba per forza necessariamente riprodurre imitare la realtà la realtà esiste già e possiamo goderne in tutti i modi possibili l'arte può avere un ruolo di diverso tipo vedrete che adesso l'intenzione di Kandinsky sarà quella proprio di fare risuonare l'anima di elevare spiritualmente chi guarda i dipinti nella trascrizione delle sue opere appunto leggete pure se volete appunto questa sorta di descrizione molto musicali che ci lascia molto molto interessante ma voglio farvi capire allora Kandinsky riteneva che gli artisti avessero un ruolo fondamentale in società era un uomo serissimo vi dicevo e riteneva che la società fosse fatta secondo una forma piramidale per cui quelli che stanno un gradino sopra nella piramide hanno l'obbligo morale di aiutare quelli che stanno un gradino sotto a elevarsi a fare un passo in più a salire quindi non è una questione di piramide elitistica no elitaristica ma anzi è il contrario chi sta sopra ha la necessità di aiutare gli altri e lui facendo l'esempio di questa piramide nello spirito e nell'arte a un certo punto cita ad esempio Beethoven solo in cima a quella piramide isolato non capito c'è anche il dramma dell'eroe musicista isolato dell'eroe artista che non viene compreso dai suoi giorni dal suo tempo lo prendevano in giro Beethoven quando ascoltavano la quinta con questa sequenza di mi qualche critico diceva ma sono solo mi sono notte che trovo proprio all'interno dello spirituale dell'arte tutte queste descrizioni quindi ma chi sta in cima ha l'obbligo di aiutare gli altri che sono appena sotto a salire l'arte ha un ruolo fondamentale riveste un ruolo fondamentale per la società leggiamo cosa ci dice in generale il colore è un mezzo per influenzare direttamente l'anima pensate il colore può influenzare direttamente l'anima il colore è il tasto ciò che si suona l'occhio è il martelletto l'elemento meccanico che fa risuonare l'anima è un pianoforte con molte corde l'artista è la mano che toccando questo quel tasto fa vibrare l'anima è chiaro che l'armonia dei colori è fondata solo su un principio l'efficace contatto con l'anima state cominciando a capire queste sono parole di Kandinsky e in giallo io ho evidenziato quello che lui aveva scritto nel testo in corsivo questo fondamento si può definire principio della necessità interiore i colori devono smuovere influenzare direttamente l'anima è un principio della necessità interiore c'è una necessità è qualcosa di fondamentale di essenziale e l'armonia dei colori non segue altra regola se non quella dell'efficace contatto con l'anima accidenti allora vi interesserà sapere che il contatto col mondo della musica diventa sempre più importante perché nel gennaio del 1911 Kandinsky a Monaco di Baviera ha occasione di ascoltare c'è chi dice primo gennaio c'è chi dice due gennaio mi cambia poco 1911 di ascoltare un concerto di Schoenberg da quel momento in poi diciamo che lui veramente uscirà cambiato la sua arte uscirà cambiata era già prossimo a queste a questi cambiamenti ma da questo momento in poi tutte le sue opere cominceranno a essere pensate elaborate progettate seguendo tre diversi processi creativi che possiamo anche identificare con tre diversi titoli le impressioni le improvvisazioni o le composizioni due di questi tre possibili titoli come vedete improvvisazioni e composizioni derivano direttamente dal linguaggio della musica ma allora cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta tra adesso in poi le sue opere avranno prevalentemente questi titoli dal 1911 in poi quasi allora impressioni nascono legate da un'esperienza diretta della natura esteriore sono nella realtà mi succede qualcosa o un'impressione o un'impressione in fondo ancora un legame con quell'impressionismo di fondo anche se non è più soltanto visivo non è più l'esperienza degli impressionisti di Monet anche se avete visto quanto Monet sia stato importante in origine per la ricerca di Kandinsky oppure le improvvisazioni pensate vi mettete al vostro strumento al pianoforte vi mettete a cantare vi mettete a suonare la chitarra al flauto il vostro strumento e seguite un flusso interiore dipinti scaturiti da un evento di carattere interiore è un filo conduttore che seguite vostro non c'è nulla esterno che vi guidi o che vi costringa seguite il vostro flusso le improvvisazioni il jazz funziona molto così da un certo punto di vista solo da un certo punto di vista oppure le composizioni frutto di una ricerca e una riflessione che richiedeva un lavoro lento basato su studi preliminari e abbozzi allora molte delle opere che vedrete che si chiameranno composizioni che a noi potranno sembrare accostamento casuale di macchie in realtà seguivano davvero un'elaborazione lunga lenta meditata un po' come se fossero appunto gli studi matematici che portavano alla composizione delle fughe bacchiane per intenderci quindi davvero tre diverse possibilità e vi dicevo ecco l'evento che cambierà in parte anzi radicalmente lo scenario artistico del nostro Kandinsky in particolare vi dicevo appunto in questo concerto del 1911 sono stati suonati il quartetto per archi opera 10 di Schoenberg che vi faccio sentire almeno spero di riuscirci vediamo se ci riesco non ci sono riuscita sì vediamo almeno qualche secondo perché dura un po' andiamo avanti a e a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo so, lo so che è brutto, che è brusco, ma devo farlo. Le altre composizioni presentate erano i Clavier Stueche, opera 11. Allora, torniamo a noi, scusate. Che cosa può avere percepito Kandinsky a questo concerto di Schoenberg? Quale può essere stato l'elemento che l'ha sbaragliato, che gli ha fatto veramente cambiare strada? Allora, sicuramente, purtroppo se fossimo riusciti a sentire qui, ma non capisco perché, non va. Allora, sicuramente avremmo capito che la ricerca di Schoenberg stava andando in una direzione che era diversa da quella di Kandinsky, però Schoenberg stava allontanandosi dal tonalismo, lo sapete, per inseguire un percorso che era molto diverso. Ogni nota risultava come armonizzata in una sequenza che non seguiva più la logica della tono, della nota a cui tutte le altre dovevano correlarsi, come dire, ve lo dico in termini non musicali. Vi interesserà allora sapere che, appena uscito da quel concerto, Kandinsky lavorerà una serie di, vedete, di schizzi, che poi lo porteranno alla realizzazione di questa opera, Impressione 3, Concerto, 1911. Forse l'opera davvero per noi più importante da cui partire insieme a quell'acquerello astratto che vi ho mostrato prima. Perché? Allora, voi vedete che a colpo d'occhio emergono, galleggiano sulla pagina bianca queste forme e questi colori, ma di che cosa è fatta la pittura? Così come la musica è fatta di note, timbro, ritmo, durata, dicevamo, e aggiungete quello che voi volete, Allo stesso modo la pittura deve poter essere fatta di forma e colore, aggiungiamo anche le linee, aggiungiamo anche i punti, nel 1926 Kandinsky pubblicherà un altro testo che si intitolerà Punto, Linea, Superficie, giusto per dirvi. Ma guardate questo dipinto, questa Impressione 3, intanto vedete che i titoli sono questi, questa è un'impressione, parte dalla realtà, è successo qualcosa del vero? È il concerto che l'ha generato e allora quella macchia nera che vedete là in alto ci evoca evidentemente la forma di un pianoporte a coda e quelle linee nere e quelle macchie colorate che vediamo in basso a sinistra sicuramente possiamo ricollegarle al pubblico. Ma vedete che tutto è avvolto da questo colore giallo che ingloba tutto. E allora è interessante anche leggere la descrizione che verrà fatta delle opere di Kandinsky di questo periodo, da chi? Vi voglio parlare di Franz Marc, che è un artista tedesco che si associerà a Kandinsky nella creazione del movimento di avanguardia dell'espressionismo tedesco intitolato Der Blaue Reiter, il Cavaliere Azzurro. Quando vi ho parlato dell'espressionismo io vi ho detto, certo esistono i FAUV, esiste Die Brücke a Dresda, ma poi esisterà nel 1911 anche il Cavaliere Azzurro di Kandinsky, Marc, Mac e altri. Mi riferisco a questo movimento di espressionismo che vedeva attivi i nostri artisti, c'era anche Gabriele Münter, la compagna di Kandinsky, vedeva attivi i nostri artisti in questa ricerca, vi potrà sembrare un passo indietro, dice ma come sta andando in direzione dell'astrattismo eppure realizza opere espressioniste. Ma in realtà era un percorso volto a far emergere una serie di artisti che avevano tanto da dire nella loro epoca, in quel caso a Monaco di Baviera siamo, e in particolare nel 1911 nasce questo gruppo, questo movimento, ma nel 1912 verrà pubblicato questo almanacco con questa copertina in particolare, perché si chiamava Der Blaue Reiter, il Cavaliere Azzurro. Perché? Nel 1903 lo stesso Kandinsky aveva dipinto un'opera che si titolava Il Cavaliere Azzurro, è quella che vedete adesso, e entrambi, Marc e Kandinsky, adoravano il colore azzurro, davano un valore importante al colore azzurro, e Kandinsky in particolare amava i cavalli e i cavalieri. Allora il nome è emerso spontaneamente in questo modo, ma la cosa che a noi interessa, e torno quindi al senso, e vi volevo raccontare anche le parole con cui Franz Marc, che era appunto il socio del Cavaliere Azzurro di Kandinsky, descriveva le opere, l'ascolto di quelle Claudia Stucke, opera 11, che a me non è riuscito a farvi sentire, mannaggia, di Schoenberg, e che Marc collegava quasi a questo dipinto, Macchie che saltano, di Kandinsky. Allora, diceva Marc, sono stato costretto a pensare al Springende Flecken di Kandinsky, nel momento in cui ho ascoltato questa musica, cioè Claudia Stucke, opera 11 di Schoenberg, dove ogni singolo suono ha una propria autonomia, una specie di telo bianco tra macchie di colore, l'autonomia delle note, così come l'autonomia delle macchie di colore. Schoenberg parte dal presupposto che i concetti di dissonanza e consonanza non esistano affatto, la cosiddetta dissonanza è soltanto una consonanza di note non collegate tra loro, cioè non si può neanche più parlare di musica tonale o atonale, si sta dicendo che siamo usciti dal tonalismo con la musica di Schoenberg, ma si crea un'altra forma di armonia che è creata dalla consonanza di note autonome, e questa era la descrizione che ne faceva appunto Franz Marc collegandole alle opere di Kandinsky. Vi ho inserito a questo punto anche la traccia di alcuni dei testi di questo volume importante, questo almanacco del Blau Reiter del Cavaliere Azzurro del 1912, perché molti articoli pubblicati in questo volume erano dedicati alla musica, in particolare c'era un testo di Arnold Schoenberg, perché dopo questo concerto nel 1911 a cui Kandinsky assiste, comincia uno scambio epistolare intenso tra Kandinsky e Schoenberg, che si interromperà soltanto nel 1914 per questioni un pochino spinose legate all'esplosione della Preguarda Mondiale e alle teorie mal interpretate nei confronti delle persecuzioni, lasciamo stare. Ma quindi il rapporto con il testo di Arnold Schoenberg, quindi un discorso musicale, l'anarchia della musica di Thomas von Hartmann, che era quel compositore che vi nominavo prima per l'esperimentazione insieme a Sakharov, il ballerino, il Prometeo di Scriabin, scritto da questo Sebanev, ma mi interessa mostrarvi Scriabin, un altro nome musicale per noi molto importante, e poi la musica libera di Nikolai Kulbin. Nell'almanacco comparivano poi i brani musicali di Schoenberg, Alban Berg e Anton Weber, quindi vedete che c'era tantissimo spazio all'interno del Cavaliere Azzurro, questo almanacco legato al movimento d'espressionismo tedesco di Monaco, di Kandinsky e Mark, legato alla musica quindi. In particolare, Kandinsky era rimasto molto affascinato da il legame che Scriabin aveva indagato sulle note e sul colore. Scriabin aveva proposto questa tavola di corrispondenza, secondo lui c'era proprio una corrispondenza diretta tra le note e i colori, per lui il Do era rosso, il Sol era arancio, il Re era giallo e così via, leggeteli pure e provate a immaginare di suonare le vostre partiture e quindi questi colori che fanno la loro compassa. Cominciate a capire come ragionava Kandinsky. Kandinsky stesso infatti comincerà a descrivere i colori associandoli ai suoni, vedete che qui fa proprio una sorta di traduzione sinestetica, ma vi leggo ancora un altro passaggio allora dello spirito e nell'arte. Negli esseri umani più evoluti, ho evidenziato più evoluti per farvi capire che siamo nella scala più alta della piramide, quelli che hanno più responsabilità, non è una questione del dire sono l'elite, ma sono quelli che si sono evoluti di più e quindi hanno maggiore necessità nei confronti di quelli che stanno sotto. È un'idea molto democratica di questa piramide sociale. Negli esseri umani più evoluti le vie che conducono all'anima sono così dirette e le impressioni psichiche raggiungibili così rapidamente che è un'azione che si eserciti attraverso un senso arriva direttamente all'anima facendo vibrare per simpatia le vie corrispondenti che vanno dall'anima agli altri organi sensoriali. Basta nulla per muovere l'anima negli esseri più evoluti e un'azione allora magari tramite il colore arriva direttamente all'anima e la fa vibrare e allora dall'anima arriva agli altri organi sensoriali. È davvero qualcosa di molto interessante. Si potrebbe paragonare questo fenomeno a una sorta di eco o di risonanza quale sia in determinati strumenti musicali quando senza essere toccati entrano in risonanza con un altro strumento suonato invece direttamente. È chiaro pertanto che l'armonia dei colori deve fondarsi solo sul principio della giusta stimolazione dell'anima umana, ve l'ho ribadito. Però è interessante anche questo discorso di eco risonanza. Anche a livello sociale, se qualcuno si comporta in un certo modo gli altri intorno a lui possono entrare in risonanza, possono risentirne. Capite questa logica della piramide sociale e capite il ruolo importantissimo che l'arte rivestiva secondo Kandinsky. Chi vede le opere di Kandinsky deve poter essere trasformato, deve poter essere sollevato spiritualmente, portato un gradino più in alto, astratto dalla realtà e portato verso un contatto più profondo con l'anima. Altro che macchie buttate sulla tela come se fosse un gioco di un bambino. È un gioco molto più complesso il suo. Pensate che Kandinsky, nel spirito e nell'arte, ha appunto anche elaborato questa tabella di corrispondenza tra colori, effetto o umore e un equivalente strumentale o sonoro. Ad esempio, il nero, per lui coincide con l'eterno silenzio, il silenzio della morte, la non speranza futura e nella musica il colore più povero di suono, completo riposo finale. È come se alla fine della composizione si andasse a nero, come si usa anche nel linguaggio del cinema, no? Andare a nero. Grigio, immobile, senza speranza, rigido, equivalente strumentale, nessuno. Marrone, effetto dell'umore, inibizione, effetto strumentale, equivalente, nessuno. Il verde, apatia e pace, riposante e calmo, benefico per un uomo stanco. L'equivalente musicale sono suoni di violino nel registro medio. Cominciate a capire quando, tra un attimo, vi mostrerò il tripudio delle opere meravigliose di Kandinsky, voi direte, vabbè, sarà anche ora, dopo tutta questa teoria, dovete cominciare a fare una sorta di gioco di questo tipo, perché lui teorizzerà anche le forme, non solo i colori, che giocano questi ruoli, che si rispondono e che hanno, secondo lui, alcuni colori hanno delle forme essenziali in cui incarnarsi, ma allora è come se noi potessimo giocare con questi effetti di partitura sonora e visiva ed emotiva. Le cose sono, le tre cose sono collegate. Il viola, sensuale, smorzato e triste, che equivale al corno inglese, alla chiarina, all'oboe e nei toni più profondi i fiati, basso. Il blu, lui amava moltissimo l'azzurro e il blu, lui diceva che erano i colori più spirituali. Generalmente di colore celestiale, tipicamente concentrico, in opposizione al giallo, che invece è eccentrico. Il blu porta dentro, concentrico, il giallo è eccentrico, butta in fuori. Il colore corrispondeva al violoncello, mentre la tristezza aumenta, quindi questi suoni molto profondi e densi. Il blu scuro, pace, tristezza non umana, qualcosa di spiritualmente più elevato. I meravigliosi suoni del contrabbasso, in forma profonda, solenne, come l'organo profondo. L'azzurro, diventando più chiaro, assume carattere più indefinito, corrisponde al flauto. Il rosso freddo profondo, un'attesa energica, come qualcosa che giace in attesa, pronto a fare un balzo selvaggio. Equivale ai suoni centrali profondi del cello, evocanti un elemento di passione. Il rosso freddo, chiaro, giovane, pura gioia, libertà, la fresca, pura immagine di una ragazza. I suoni più acuti, chiari e melodiosi di violino o piccole campane. Il vermiglio, come una passione che scorre continua, una forza che conta su se stessa, corrisponde alla tuba o al tamburo profondo. Il rosso caldo, chiaro, effetto entusiasmante che può giungere al punto di dolore, simile al sangue che scorre. Corrisponde agli ottoni, alle fanfare, dai suoni forti e ostinati. E ancora, l'arancione, come un uomo convinto della propria forza, una sensazione sana. Equivalente strumentale, campane di chiesa medie che suonano all'Angelus, voce forte di viola che intona un largo. Il giallo, molto presente, avete visto nell'improvvisazione tra e concerto, tipico colore terrestre eccentrico e senza spessore, inquieto, eccitante, influenza fortemente l'umore, toni più leggeri possono raggiungere una forza e altezza insopportabile all'occhio e alla mente. Pensate a quel giallo limone che squilla tantissimo, noi usiamo l'espressione squilla, è sinestesia anche questa. Può rappresentare la pazzia nel colore, il colore della follia, giallo. Equivalente in musica, gli ottoni, mentre il giallo diventa più chiaro, suona come le note acute di una tromba sempre più forte o come una fanfara increscendo. Si conclude il tutto con il bianco che ha un silenzio non di morte ma ricco di possibilità e equivalente strumentale è un silenzio che può improvvisamente venire compreso come le pause in musica che solo interrompono lo sviluppo di un movimento o il contenuto per un dato tempo e non sono la conclusione definitiva. allora quelle forme che io vi ho detto più volte galleggiano quelle macchie di colore che galleggiano sulle sue tavolozza sulle sue tele allora forse galleggiano su questo bianco come se fossero appunto le pause musicali. Ora lo so che è lungo questo video interrompetelo voi quanto vi serve. 1914 esplode la prima guerra mondiale e quindi il nostro è costretto a ritornare in Russia. in Russia avrà allora rivestirà un ruolo molto importante vi dicevo prima nel rifondare l'istruzione artistica in particolare dopo la rivoluzione russa in particolare nel 20 vedete che c'è questo programma non ve lo so pronunciare perché è russo questo appunto ma è interessante per noi e sentite cosa diceva si scaraventa contro si scaglia uso le sue parole contro l'accademismo è molto meglio scagliare la propria tavolozza contro la tela scagliare la tavolozza contro la tela è meglio che venga fuori un risultato casuale è meglio frantumare la creta se parliamo di scultura o il marmo con il pugno col mazzuolo cioè la violenza dei futuristi o sedersi fragorosamente sulla tastiera del pianoforte davvero anche questo sembra un po' un gesto futurista piuttosto che razzolare senza vitalità nel campo di una forma d'arte tradizionale e morta da tempo totalmente contrario dell'accademismo ma non perché è una semplice replica di qualcosa che non si può più raggiungere nel senso di perfezione è perché vi ricordate cosa dicevamo ah non ve l'ho detto nello spirituale e nell'arte ci sono dei passaggi in cui risulta chiarissimo che anche Candischi è consapevolissimo dei passaggi della scienza delle teorie legate all'energia il vuoto non esiste tutto è materia le teorie di Einstein ve ne ho parlato più volte legandoci al futurismo legandoci al cubismo ecco anche lui era profondamente consapevole di tutto questo ma come si poteva pensare ancora a un'arte tradizionale che imitasse un'arte di imitazione occorreva un'arte che potesse sollevare l'animo che potesse elevare spiritualmente gli spettatori l'arte ha un ruolo importantissimo e lo vediamo infatti nel suo essere così impegnato per addirittura in Russia c'è un'altra cosa che voglio nominarvi che potrebbe essere per voi interessante allora nel 1928 Kandinsky verrà coinvolto nell'allestimento scenico dei quadri di un'esposizione di Musorsky che verrà messa in scena appunto a Dessau al Friedrich Theater di Dessau di cui ci restano alcuni bozzetti alcuni appunto io ne ho messo alcune cose che ho trovato questo magari per voi potrà essere interessante così come giusto come possibile collegamento giusto per completare il quadro legato al discorso musicale all'influenza fortissima che la musica ha rivestito nel mondo di Kandinsky oh ma finalmente arriviamo alle opere giuro che non ve ne parlo ve le mostro semplicemente vi faccio fare una carrellata a questo punto avendovi dato questa premessa teorica così massiccia così sostanziosa spero che vi sia venuta la voglia di vedere dal vero molte sono a Mosca quindi ahimè per noi Mosca-San Pietroburgo per noi magari non proprio dietro l'angolo molte sono a Monaco di Baviera una delle sue opere qualcuna a Parigi ma vi faccio scorrere queste opere vi darò poi una ultima informazione nozione verso la fine ora guardate quasi tutte si intitolano improvvisazione impressione composizione vi dicevo e vedete che prendono spazio il ruolo autonomo un po' come avevano fatto le notte delle composizioni di Schoenberg i colori e le macchie le forme si dispiegano giocano insieme in un dialogo che è un dialogo da partitura che deve far risuonare l'anima guardate improvvisazioni sono gli anni appunto di cui stiamo parlando qualcosa anche prima del concerto di Schoenberg guardate che meraviglia queste forme che si inseguono e vi dicevo nelle teorie che poi porterà avanti il nostro Kandinsky farà anche una correlazione stretta tra le forme e i colori ma vedete come se in qualche caso ancora qualche parvenza di realtà ci può comparire piano piano andranno scomparendo ad esempio questa improvvisazione si intitola due cavalli vedete che sono sparite le forme chiuse ci sono solo delle linee che possono evocarci i movimenti possiamo fare perfino una sorta di paragone con la città che sale di Boccioni se vogliamo degli stessi anni esattamente dello stesso anno ma vedete che la ricerca è molto diversa questa semplificazione questo gioco di queste macchie che devono spostarci che devono cambiarci che possono veramente elevarci spiritualmente guardate che meraviglia di nuovo queste improvvisazioni il ruolo autonomo delle forme del colore in particolare del colore queste opere vanno evidentemente viste dal vero e meditate bisogna un po' perderci dentro farsi prendere per mano un po' come quando davvero si ascolta la musica e allora ci si lascia trasportare col tempo necessario perché tra l'altro Kandinsky diceva che la pittura era superiore alla musica in questo senso perché non aveva bisogno del tempo che trascorre mentre la musica ne ha necessità abbiamo invece la visione simultanea di tutto ciò che serve in pittura anche se serve un tempo più lungo per meditare forse opere come queste che allora vedete guardate che meraviglia queste forme questi elementi squillano emergono ovviamente facciamo un attimo una riflessione allora siamo arrivati ad un astrattismo che è evidentissimo parlando di astrattismo non ve l'ho detto all'inizio avrei potuto parlarvi del fatto che esiste un astrattismo di tipo lirico quello di Kandinsky in particolare che state vedendo quello fatto di forme autonome che vogliono risuonare nell'anima con queste vibrazioni ecco che allora si usa proprio il linguaggio tratto dal mondo musicale non il linguaggio comunque l'idea di qualcosa di poetico che risuona oppure un astrattismo di tipo geometrico più simile a quello che inseguiranno Malievich e Mondrian oppure sempre riferendoci a Kandinsky un astrattismo di tipo biomorfo ve lo faccio vedere nell'ultimo dipinto che ho inserito biomorfo in senso di quasi alla percezione di queste microparticelle della realtà gli stessi atomi ma anche gli elementi proprio della biologia che hanno queste forme e che vedrete che poi il nostro Kandinsky impiegherà ve lo faccio vedere nell'ultima opera di nuovo delle composizioni vi dicevo composizioni sono molto più lente molto più meditate c'è bisogno di capire come una forma risponde a un'altra come se fosse davvero una composizione alla Schoenberg un'altra composizione vedete questa è una delle più grandi intorno ai tre metri di grandezza quindi davvero molto importante anche nell'effetto e nell'impatto di insieme si vede un po' risucchiati da questi dipinti ci si fa condurre in questi mondi paralleli che sono astratti dalla realtà e che quindi sono più elevati ancora guardate che meraviglia questa improvvisazione con forme fredde ve le ho messe un po' in ordine più o meno cronologico giusto per accompagnarvi in questo percorso ma dovrei semplicemente tacere sarebbe stato bello avere qua sotto le note di Schoenberg ahimè ecco queste sono invece opere che il nostro realizza appunto al suo ritorno in Russia 1917 qui guardate c'è la piazza rossa sembra quasi un po' ricomparire l'anima russa quasi figurativa vedete i campanili là in fondo questi edifici alti svettanti ma ormai il linguaggio è autonomo cioè così come la musica può giocare con le note allo stesso modo la pittura gioca con le forme le linee il colore e tutto può essere impiegato in senso molto autonomo guardate anche quest'altro che meraviglia i due ovali vedete appunto che ecco qui comincia a vedere un po' questo biomorfismo a cui mi stavo ritenendo prima questa sorta di astrazione che ha a che fare quasi con delle forme delle particelle quasi ci sembra di poter riconoscere il coronavirus da qualche parte in queste particelle che vivono quasi di vita propria che con il microscopio anche la le scienze stavano compiendo comunque dei passi in avanti in tante direzioni quindi sicuramente anche questo sicuramente ha influenzato rispetto a una a un'astrazione geometrica che era legata a un mondo più razionale che derivava dalla semplificazione sesaniana ecco il nostro va in una direzione decisamente più libera e aperta forse seguendo un po' quella concessione espressionista di un quadro come campo dinamico in cui tutto poteva succedere abbiamo visto che nell'astratismo è importante anche in fondo è stata importante anche la scomparsa della prospettiva operata già dall'epoca dei cubisti anzi degli espressionisti di matisse prima e dei cubisti poi ma sicuramente ha avuto un ruolo importantissimo l'uso importante del colore in senso espressivo autonomo prima da parte di Gauguin ma soprattutto poi per Kandinsky quello che lui ha visto applicare è IFOV vedete che però a volte convivono diverse componenti quella più geometrica quella biomorfa questi elementi appunto tratti dal mondo della vita al microscopio e invece forme più libere forme più autonome vedete appunto andiamo avanti inizio